Walter Galli, candidato a Carono per Tusella, si andrà al ballottaggio, un dato appena sotto il 40%, come vede questo risultato? Beh, tutto sommato è quanto ci aspettavamo, non più. Adesso vedremo di trovare le forze per arrivare alla finale e vincere. Cioè un Marco Giudici che è sopra il 40% e un Persiano che ha fatto un 15%, forse un po' anche a sorpresa. Come vede gli avversari? Beh, benissimo, ha fatto per piano Marco Giudici e quanto ci si aspettava. Grazie mille.